Oh, creatura. Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di... cosa è? A-S-M-A Eccoci qua anche oggi pomeriggio, domenica pomeriggio, con un nuovissimo gameplay di Unpacking. Unpacking E ho spostato l'orario alle ore 14 perché così penso che sia più comodo per tutti forse una bella penichella dopo pranzo alle ore 14 guardando uno dei miei gameplay Unpacking. Ok, riprendiamo con... abbiamo la stanza, la cucina e il bagno se non sbaglio. Sono piccini, li farei insieme. Ok, eravamo qui. Qualcuno nei commenti mi ha fatto notare che probabilmente questo è una sveglia, quindi direi di metterla. Eh, infatti, quando l'ho bruciata qui si è accesa, anche questo qua. Quindi la... come si fa, ci fa, ci fa, ci fa... Ok, la mettiamo qua, la sveglia. Ci sta questo qui dentro, no? E quindi si è attivata giusta giusta per essere messa appunto qui sul comodino. E io non l'avevo notata. Cosa possiamo nascondere qui? La cinza? E questo lo mettiamo qua. Ok, bene. Procediamo con la cucina piccolina, piccolina, piccolina. Apriamo la prima scatola, primo scatolone. Una tazza. Tazze le mettere abbastanza vicine, non troppo in alto, se no come ci arriviamo a prenderle. Questo è un bicchiere, una tazza. Un bicchiere, però, potrebbe essere usato come tazza. Andiamo qui, se possiamo... qua ci mettiamo le posate. Il cestino. Anche qui ci possiamo... Anche qui ci possiamo mettere delle cose. Questo non si apre, ok? Tazzina da caffè. Intanto le metto qua, dopo possiamo sempre spostarle, tu lo sai. Lo zucchero. La biscottiera. Io voglio i biscotti vicini. Un piatto. Una ciotola. Un'altra ciotola. Si può mettere una sopra l'altra, molto bene. Un altro piatto. Fine. Beh, insomma, ci ho messo due rompe dentro. Una... Uno strofinaccio. Mettiamolo qua. Mettiamolo qua. Le posate. Coltelle. Allora, erano le porchette. Coltelle. Le mettiamo qua. Le cucchiai. Un altro strofinaccio. Mettiamolo qui. Il sapone. Sapone per le mani. O è sapone... Eh, non lo so, perché potrebbe andare o qui o in bagno. Per adesso lo mettiamo qui, poi dopo lo vediamo. Questo cos'è? Olio d'olivo. Penso. Questo è uno spray, credo, per uccidere gli insetti. Mettiamo qua. Via perché è veleno. Lo mettiamo nel posto più nascosto possibile. Cos'è? Una bistecchiera, forse. Mettiamola qua. Il tagliere si può mettere in piedi, no? Cioè, lo metterei salvaspazio, come un libro, in piedi, no? Ci stacco, no? Accidenti. Eh no, no, lo voglio mettere là. L'approccio qui. Lo... Lo appoggio qua intanto, vediamo. Me la giro qui. Ah, così per forza. Ah, vabbè. Mettiamola qua, là. Non mi piace che non sia molto centrata. Ecco, adesso sì. Adesso sì. Qua, però questo non ci sta lì. Ok. Un altro olio. Olio di semi, forse. Noi, no? No. I sacchetti. I sacchetti. Vabbè, qua. Sacchetti per rimondizia. Quello lì è il pentolone che ci è rimasto per fare quintali di cibo, che era il pentolone della nonna, quindi non lo usiamo, capito? Però ci è rimasto di ricordo e quindi lo teniamo lì, questo è il mio grande viaggio mentale. Anche la bistecchiera non credo che la usiamo tutti i giorni, la mettiamo via nel cassetto, poi la tiriamo fuori quando ci serve. La stessa cosa col tagliere però devo capire dove metterlo perché vorrei metterlo appunto in piedi ma non me lo fa mettere, non so se aspetta se tolgo l'olio. No vedi lo fa mettere solo, ah non lo possiamo mettere, sì ma troppo in alto, troppo in alto. Sono delle spugne queste, vabbè le spugne le possiamo lasciare qua per lavare i piatti oppure le mettiamo via, le prendiamo all'occorrenza. Vediamo il mistolo qua, che non è un mistolo, è una spatola, ma va bene lo stesso. Ok, una bella spatola, ah ma aspetta io questo gancio, non mi ero accorto di questo gancio, possiamo avventerci qualcosa? Poi vediamo, una tastiera, direi che non va proprio, direi che va qui la tastiera, ok, senza fili tra l'altro. Un altro piatto, un altro piatto, un'altra ciotola, bicchieri, qui mettiamo bicchieri e tazze, coltello, tasse real killer, ci stacco? No? Oddio, lo mettiamo? Perfetto. Un mestolo, questo mestolo di legno che non mi piace, perché non si può pulire bene il mestolo di legno, perché il legno assorbe, quindi io utilizzo solo mestoli o cose per mischiare. Che siano di silicone, perché appunto di legno assorbe, quindi, che schifo, la cosa meno igienica dell'universo come i taglieri di legno, tra l'altro. E quindi posso butterlo via? No, non lo voglio, io in cucina questo ammasso di germi, è schifo. Allora, lo mettiamo qua, lo mettiamo qua, nascosto, lo potevamo mettere qua, anche con i cavatappi. Qua ci sta solo una roba e basta, vabbè. Allora, cavatappi, lo mettiamo qua. La spugna, questa la teniamo fuori, perché mi serve, è inutile metterla via, mi serve subito, deve essere a portata di mano. Il bollettore qua, o qua, non ci sta. Intanto lo mettiamo qua, dopo vediamo. Perché io voglio mettere tutto messo via bene e quando ho bisogno mi prendo l'oggetto, ok? Bene, dottor Martins, eccolo dove era finito. Un apri barattoli, forse. Ci sono come sempre dei suoni strani fuori. Una bella tazzina rossa, molto bella. Un bicchiere. Non c'è come da noi, quello per i piatti, che metti i piatti verticalmente, così scocciolano. Questo piattino. Ok. Piattino. 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 Sale. Sembra un... Un faro, non so per quale motivo. Meglio che i biscotti li mettiamo lontani, così non... Non ci viene la tentazione di mangiarli. Ah, sai che qua potevo sennò mettere la pistecchiera. Qua ci mettiamo questo. Allora... Caffè. Il rotolone. Il rotolone. Il rotolone. Il rotolone dove si può... Volevo appenderlo, ma non c'è niente su cui appenderlo. Il rotolone. Eh. Il rotolone lo devo avere sotto mano perché devo asciugarmi le mani, di solito si appende nelle cucine italiane, si appende qui vicino al lavello. Ci sta qua. Ci sta qua. Lo metto qua intanto perché occupa tanto spazio. Ho altri cucchiai che però non ci fanno più, quindi devo spostare qualcosa. Allora la spatola la spostiamo. Qui mettiamo i cucchiai. Magari la spatola la mettiamo qua, se ci sta o non ci sta. Ci sta o non ci faccio i denti. Cioè questo qua a me non piace, lo voglio buttare via. Allora... Mi sa che ci tocca usarlo, sai? Facciamo finta che è di finto legno. È finto legno ed è... In realtà è tipo di silicone marrone, ok? Bene. Lo mettiamo qua perché lo stiamo utilizzando per cucinare la pasta asciutta, per girare il sugo. È fine, ok? E... Andiamo... Andiamo al bagno. Col bagno abbiamo solo uno scatolone. E... Anche qui si può appendere qualcosa. È... Un asciugamano o un accappatoio. Eh... Pensavo di trovare un crempiule in cucina. Altrimenti magari ci appendiamo uno strofinaccio nell'altro... Nell'altro... Nell'altro cancio. Vediamo cosa troviamo. Ecco, c'è un asciugamano volendo che si può appendere. Oppure si può riporre in modo più ordinato qui dentro. Un biscotto, no? Cos'è? Una saponetta? Un biscotto. Possiamo metterla qui o possiamo metterla sulla... Sopra la vasca da bagno. Una tazzina. Una tazzina aspetto. Si può fare così. Ottimo. Mi piace di più. Fatto bene. Molto, molto bene. C'è solo questo, vero? Sì. Sarebbe stato utile anche un cassetto qui dove riporre... Questo ci sta. Ah, perfetto. Ottimo. Va benissimo così. Questo è un detonante. Però io lo vorrei sempre a disposizione per le mie ascelle profumate. Un profumo. Anche questo lo voglio qui. Si può aprire lo specchio, no? Anche qui si può mettere un asciugamano. Sto volendo. La spazzola. La spazzola mettiamo qua. Altrimenti. Qui c'è il bagnoschiuma. Un kit del pronto soccorso. No. Aspetta. Ecco. Oh no. Non si apre più. Non pensavo potesse succedere. Guarda cosa succede. Ergisenova. Qui, tra Ergiseni che avevamo messo e non ce ne stanno più, no? Non ci credo. Non ce ne stanno più. Li avevo messi qui tutto in modo molto ordinato e ce ne stanno solo tre. che delusione. Oh no. E adesso spostiamo tutti questi. Ci sta qua in su. Così. Di. Solo che qua ci sono tre posti. Perfetto. Ok. Anche se si sminchi un po' il mio disegno però comunque ha un senso benissimo. Poi torniamo in bagno. Questo cos'è? Oh no. Oh no. Oh no. I tampax. Mettiamoli qua. Un altro bagnoschiuma barra shampoo barra balsamo. Altra carta igienica che potremmo. No. Mi sa che qua non ci sta più. Oh la mettiamo qui sopra. al pc. La storia diventa complicata. Oh no. Quanti sono? Aspetta. Aspetta. No. No. Direi che qui è quello per asciugarsi le mani e questo è quello che utilizziamo per asciugare tutto il nostro corpo quando facciamo la vasca o la doccia. qua. Un altro tipo di assorbenti ma dobbene. Non ci sta più nulla qua. Ok. Ah un cestino qua per gli assorbenti giustamente. vedete. Una padella. Che possiamo mettere qui? No. Ci sta. che è un peggio a bagno. Io volevo mettere. Ecco. No. E che cacchio non lo fai perché. Volevo mettere. No. Così per forza. Allora sai cosa facciamo? Appendiamo. Perché ho notato che aveva questo gancetto e ho detto allora si può appendere. Anche se mi sarebbe piaciuto di più appendere magari uno strofinaccio però va bene anche così. Un grembiolino magari. Fine. Adesso lampeggiano perché cosa ho sbagliato. Ah non dovevo metterlo qui questo? Dove dovevo metterlo? Ah ho sbagliato delle cose. Ok. Quindi questo cos'è? Non posso metterlo qua questo perché dove va? Dove va il mestolo? Anche quella gomma non va lì? Oh oh. Oddio. Mi sento... Perché l'olio non lo posso mettere qui in alto? Scusatemi. Cos'ho sbagliato? Scusatemi. No. E questo? In questo anche questo? No. 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 Così va bene la gomma. No. 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 Allora dove lo mettiamo il mestolo? Non pensavo di mettere il mestolo dentro lì, non c'è un portamestoli. Forse andava qua. No, perché qua non mi dà errore. Qui non me lo mette. Qualcosa mi dice che abbiamo sbagliato qua. Allora, forse questi non sono. Eh, lui vuole stare qui. Stavo aspettando che la vicina si inventesse di far casino. Allora, qui cosa abbiamo messo? Queste cose qua che io le metterei lì, ma forse bisogna incastrarle qua. Ecco, questo, questo e questo. Lo possiamo mettere qui, non lo mettiamo qui dietro. Ah, adesso lì va bene. Ok. Adesso lì va bene. Spero che non si sia sentito tutto il ciclamento della vicina, che non so che problemi inventari abbia. A me, onestamente, ma sai che forse questo era sapone? Questo è sapone per i piatti, forse sai? Non è olio? Eh, e questo è sapone che va in bagno, forse? Proviamo. Ok. E questo, forse era sapone per i piatti? Eh, mi sa di sì, sai. Vabbè. Ok. Mi sembra soddisfatto adesso. Mi ha dato anche una stellina. Ho fatto la foto. Wow. E nel livello, nelle puntate precedenti, non mi aveva detto no, questo non va messo lì. Cioè, mi ha lasciato fare come preferivo. Mi dice, mi toccherà imparare a cucinare. 2007. Beh, il cosplay, cos'è il cosplay di Sailor Moon? Marta? No, non so. Ha una passione per gli insetti e per il cucito. Nel 2007. Però dovevo interrompere la registrazione. In causa vicini rumorosi. Oh, abbiamo un sacco di stanze, guarda. Ah, allora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette stanze, no? Queste non mi ci fanno andare, quindi uno, due, tre, quattro, cinque, come al solito dispari. Che divideremo in prossime puntate. Spero che questo video ti sia piaciuto. Io ti auguro. Buonanotte. Un po' relax. Ciao, creatura.